Oggi il caseificio Farina scende in piazza. Siamo qui tra la gente per testare il grado di preparazione in tema di mozzarella di bufala. Venite con me. Dopo, dopo, dopo. Che cos'è la mozzarella? È una cosa troppo saporita. È una cosa troppo saporita. La volessi assaggiare, ma io non te la faccio assaggiare. Prima di assaggiare devi rispondere a una domanda. Per un chilo di mozzarella, quanto latte di bufala ci vuole? Un quarto, cinque litri. Quattro, cinque litri. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. E dimmi un'altra cosa. Se un chilo di mozzarella costa 11,90 euro, tre quarti di mozzarella, quanto costano? È su sette euro, otte euro quasi. Sette euro, otte euro quasi. La matematica non è proprio il suo forte. E vogliamo fare un'ultima domanda? Eh, ma me lo faccio assaggiare questa mozzarella. Un'ultima domanda. Pesa più un chilo di mozzarella o un litro d'acqua? È sapessato che un litro d'acqua. È sapessato che un litro d'acqua. Bravo, complimenti. Lei la mozzarella non l'assaggia. Pregge perché? C'è un ingrediente particolare, un aroma particolare che stiamo sperimentando in questa mozzarella. Devi indovinare che aroma è. No, non sono in grado. Eh bene, provaci. In genere, dai, si mettono delle spezie, delle erbe, delle cose particolari. Che cosa c'è? Mentina, no? Mentina? Mentuccia, no. Mentuccia, forse la mentuccia. Mozzarella con la mentuccia. Un motivo per mangiare questa mozzarella? È buona, non va a venire il mal di pancia. Ah, perfetto, grazie. Io sono allergico alla mozzarella, quindi solo quando è buona lo posso mangiare. Oggi che giorno è? È l'immacolato. Immacolato, 8 dicembre, e siamo in Piazza Cirillo. Il caseificio Farina è a Via Padula. Come si arriva da Piazza Cirillo a Via Padula? Risponde a questa domanda importantissima. Semplicemente andando verso l'ospedale, passando dall'ospedale e alla Piazza Benedetto XV girando a sinistra. Notaio, che dici? Vicino al mercato della frutta c'è il caseificio Farina. Ho capito. E allora facciamo una cosa. Proprio per chi è allergico alla mozzarella e le altre mozzarella non le mangia, noi gli regaliamo questo coupon. Domenica prossima va al caseificio e riceve mezzo chilo di mozzarella in omaggio. Vuoi salutare il caseificio Farina? Assolutamente, il caseificio Farina. Buona domenica a tutti, vi ringrazio per il buono. Com'è bella, com'è bella città, la mozzarella.